Brrrr, che freddo che fa oggi ragazzi, si vede che sta proprio arrivando l'inverno Eh, in effetti mi sa che... Ha nevicato! Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, Sì ragazzi! Sta nevicando nella Big Vanilla! Ma tutto ciò è stupendo! Bellissimo! Eh, ci sono dei cartelli Stupido zombie, stupido zombie, non ti mettere contro l'imperatore Se è un piccone di nederite diamante, vorrai, alle coordinate, andar dovrai Ma chi l'ha fatta questa rima? Eh, vabbè, magari ci vado dopo, alle coordinate Chiudiamo la porta perché fa freddo Veramente? Secondo me non me ne sarei accorto? Chiunque sia stato? Eh? Chi è il genio che l'ha fatto? Benvenuti ragazzi nella Big Vanilla Natalizia! È il primo anno che riusciamo a festeggiare il Natale nella Big Vanilla E come vedete è tutto quanto così armonioso, così bello Mi rende proprio felice vedere l'atmosfera così Con tutta quanta la neve, tutte le case innevate Mamma mia! È veramente uno dei paesaggi più belli che abbia mai visto fino ad ora In tutta quanta la Big Vanilla Poi con tutte le varie costruzioni È inutile dirlo ragazzi È fantastico Allora, ho tolto la neve dalle impostazioni grafiche Così almeno non vi reca disturbo Visto che state guardando questo video E quest'oggi, visto che siamo a tema natalizio Ho intenzione di creare un mitico albero di Natale per la Big Vanilla Il che significa che dovremo distruggere queste costruzioni qua Ma non vi preoccupate, questa l'ho fatta io Quindi non sarà un problema distruggerla Questa ormai è obsoleta Quindi togliamo queste costruzioni al centro E voglio creare un mega albero di Natale Diciamo che come progetto ho intenzione di fare qualcosa di grande Quasi quanto quella E ci vorrà molto tempo Sicuramente ci vorrà tanto tempo Quindi per il nostro progetto iniziamo in questo modo Facciamo subito delle ceste Ma prima di tutto distruggiamo tutto Quindi tutte queste costruzioni via Perché qua adesso verrà tutto quanto rimpiazzato dal mega albero di Natale E non vedo l'ora di vedere la reazione di tutti i miei amici della Big Vanilla Quando vedranno questo albero gigante Sarà qualcosa di veramente strabello Vi ricordate l'albero che ho fatto nel Paese delle Tigri? Ecco, lo voglio fare due volte più grande Voglio che il mio contributo migliori la Big Vanilla Perché fino ad ora purtroppo non sono riuscito a costruire delle cose incredibili Diciamo che il costruttore vero e proprio è sempre stato Marci Cioè è lui che ha fatto tutte quelle robe assurde E per una volta voglio provare a migliorare anch'io il mondo Quindi mi raccomando ragazzi Super mi piace per supportarmi Perché probabilmente ci vorranno diverse ore Ok, molto bene Adesso che abbiamo liberato tutta quanta l'area centrale Non ci resta che riempirci le tasche di legna e foglie Diamanti gratis Oh mio Dio Ma che sono stupido Non ci credo che ci sono cascato veramente Beh ragazzi Non mi resta che rompere e disboscare un'intera foresta Sperando che possano bastare No, mannaggia gli stupidi mostri Oh Oh lo spada Me l'hanno fatta cadere Ma che cavolo Devo andare a casa Oh porca miseria Non ci credo ragazzi Mi si Di già Ho preso soltanto tre stack e mezzo Ok, avremo bisogno di un'ascia decisamente migliore Del resto per fortuna ho tanti diamanti Ma non solo Dovrei avere anche abbastanza nederite da poterne fare un'altra Beh In diamante Ok, non male Oh Ma ho trovato un regalo Ho paura ad aprirlo Metti che è tipo uno scherzo Facciamo che lo apro a distanza Cinque di ghiaccio Ma che me ne faccio Allora Questa casa io non capisco E' maledetta Ce l'avevo già rotta tempo fa Ma è ritornata per qualche strano motivo E io la rirompo Oh Ma guarda un po' chi c'è Mark Mark ho bisogno del tuo aiuto Sto arrivando a casa tua Sei proprio l'uomo perfetto per me adesso Devo nascondere Ok Puoi entrare quando vuoi Cosa stai nascondendo scusa? Niente No Niente Sta arrivando Hai visto che è arrivato il Natale Nella Big Vanilla È bellissimo C'è un grandissimo problema però Vai Ma tu hai ancora l'armatura così Oh che è? Mostrillo Ma che cavolo No È mostrillo 2.0 Lascia stare Ma perché hai catturato un mostro di lava Vabbè Eh non ti preoccupare Niente domande Allora Visto è arrivato il Natale Nella Big Vanilla Giusto? Ma manca una cosa fondamentale Sai cosa? Cosa? Beh provo a pensare Dai Natale Uguale Manca le lasagne Le lasagne Le lasagne di Natale Vabbè che cosa sei? Bella faccia 2 No Manca un albero gigante di Natale Che io ho già costruito Dove? Come dove? Non lo vedi? Vieni 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 Lo faccio vedere È che c'ho la neve Che guarda Non capisco un tubo No non ti preoccupare Allora seguimi Guarda È qua Dov'è? Kendall? Qua 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 Dov'è? Qui qui Kendall ma sei ubriaco No Scusa Kendall è questo coso È proprio questo No allora Ovviamente non è questo l'albero Ecco Non ti preoccupare Però Ho già farmato tutti i materiali E spero che siano abbastanza Non hai detto Canto legno hai? Non è neanche abbastanza Secondo me Ne servirà ancora di più Infatti ho già rotto tre asce E Mi vuoi dare una mano? A costruirlo? Ah va bene Dai va bene Ma io sai che sono un ottimo costruttore Di legni Esatto Di legni proprio Tu fai la legna Fa legname Allora guarda Ti do più o meno delle indicazioni Perché io ho già fatto un albero gigante Nell'isola quella delle tigri Se ti ricordi Sì Ah sì bellissimo Eh ok Con la differenza che sono andato a riguardarlo Quell'albero Ah ah Ed è troppo piccolo rispetto a quello che voglio fare ora Ah ok Cioè tu non hai idea Io voglio fare un albero di Natale Che dovrà essere più alto di quella Ah eh no Kendall sei sicuro? Sono sicuro Sei sicuro Allora Se mi dai una mano ce la facciamo Ci metteremo delle ore Ma se mi dai una mano viene fuori un progetto incredibile Tanto i fan l'hanno già supportato con tanti mi piace Te lo assicuro Ok va bene Allora mi fido Se lo fanno i fan va bene Tu ti senti pronto? Pensi di poterlo fare? Eh Non lo so Però ci proviamo Ce la facciamo Allora guarda Deve essere un po' Circolare qua Stondato? Ok ok va bene Justo un po' di più Ok ok va bene Andiamo 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 Però molto Oh mio dio Ma che ascia hai scusa? Eh È migliore che non te lo dico Perché altrimenti ti spaventi No 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 Anzi Usiamo quell'ascia Vai a prendere dell'altra legna Guarda guarda È l'ascia dell'ultradestino Guarda è potentissima È quella di Red Rite Diamante Ah io non l'ho ancora fatta Oh mio dio Kendall ma se vuoi posso anche regalartene alcune di queste trezze Che ne pensi? No non ti preoccupare Intanto sai cosa puoi fare? Vai a farmare dell'altra legna Perché ho come l'impressione che non ci basterà Ok arrivo arrivo È la linea quella di Dark Oak giusto? Eh sì esatto Intanto c'è quell'ascia che è praticamente ultrasonica Ma non è che posso direttamente distruggerla Kendall eh sai No non ti preoccupare C'avrà Mending no? Sì c'è anche Mending E allora Ma tu sai quanto danno fa quest'ascia? Ma tu sai quanta legna avremmo bisogno? Ascolta fa 16 danno quest'ascia Eh ok Bene Mark fantastico Però non hai capito forse qua che cosa ci serve Allora sai cosa faccio? Voglio iniziare a capire quanto alto lo faremo Quindi inizio a fare la punta 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 Fai proprio il pillar quello altissimo per raggiungere la punta più alta Esatto bravo E poi scendo con l'elytra Allora lo vorrei fare alto quanto la torre Perché così è una di quelle cose che proprio da lontano riesci a vederla Ok bell'idea mi piace Tu sai come si fanno gli alberi su Minecraft? Eh allora così tanto alti un po' mi spaventa onestamente Perché non ne ho mai fatti Però ci potremmo provare sai Allora l'idea è quella di creare tanti rami Quanti più rami riesce a creare più pieno sembrerà l'albero All'inizio dovrai fare ovviamente Cioè sarà a scendere come un albero di Natale Quindi fai la parte di sopra con poche foglie La parte di sotto sempre di più bla 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 Prendo le quasi quasi Tu vai in alto là Io provo a fare le foglie in alto Tu parti con la parte sotto No 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 aspetta Ancora dobbiamo fare prima i rami Eh troppo presto Aspetta Ma sei già arrivato alla fine? Eh non lo so Secondo te così potrebbe bastare? Eh secondo me è un pelo più alto sai Un pelo più alto? Eh prova 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 Top Stop 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 ok Adesso guarda Mamma mia sai quanto tempo ci metteremo? Eh lo so Kendall Allora io scendo con l'elitra adesso Però Vai vieni campione Il lavoro non è finito mio caro Ok Va bene Perché vediamo Oh mio dio Mark ma sei sicuro? Eh provo a provarci Poi vediamo eh Allora facciamo così Dentro ovviamente lo terremo vuoto Inizio a fare qua i pilastri di lato Perché dovrà essere spesso l'albero Come procede là sotto signore? Allora io credo di aver fatto tutta quanta la zona della pianta Almeno per arrivare fino al troncone La base? Però poi è un po' da modificare Sì 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 Ok La base proprio Guarda io credo di aver appena finito proprio il tronco centrale Ok Quello dove dovremmo fare tutti quanti i rami Guarda sembra tipo l'Empire State Building Ah È vero è vero È vero Allora Dobbiamo soltanto rendere questo tronco centrale meno dritto Quindi dobbiamo sfumarlo un pochettino E poi possiamo già iniziare a fare i rami Ok Ok Mi piace Mi piace Beh alla fin fine abbiamo ancora un bel po' di materiali Sì 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 Allora ragazzi sono passati soltanto dieci minuti Ma ve lo devo assolutamente fare vedere Perché ha preso totalmente una forma diversa Mamma mia è bellissimo Kendale eh È stupendo Praticamente Mark L'ha anziché tenerlo tutto dritto L'ha un pochettino storto Ha fatto quindi questa cosa molto naturale E stiamo facendo tutti quanti i rami Sotto faremo dei rami più grandi E poi man mano che andiamo su Dei rami sempre più piccolini Io non vedo l'ora di finirlo Secondo me verrà una figata Mark Lo sai Adesso però ci sarà una parte più difficile Quella delle foglie Che quella è molto Eh tra l'altro Sono sicuro che queste foglie non ci basteranno Oh Sai una cosa a cui non ho assolutamente pensato? Cosa? Cosa? Il puntale Eh Il puntale lo potremmo fare d'oro Dei blocchi d'oro Oro Oro e diamante dici? Eh Oro secondo me Perché il diamante Potrebbero rubarlo Sai? Eh vabbè ma chi è che ruberebbe Il puntale di un albero di Natale? Scusa Guarda che comunque Il grigio Ci sono alcune persone Che ancora hanno l'armatura di nederite diamante Eh potrebbe servirgli per questo Ma chi? Dai non è vero Non ce ne sai eh Te lo giuro Ciao Marci Ciao Marci Non ci vuole dare una mano Marci Vuoi darci una mano? Vuoi Marci una mano? Vuoi Marci una mano? Vieni campione Vieni vieni Guarda allora Sai che secondo me Sì? Siamo A buon punto Ah sai che secondo me Tra un po' Dovremmo iniziare con le foglie Sì 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 Anche secondo me Allora qua aspetta Va aggiunto un altro ramo Allora se non hai niente da fare Di rama degli altri rami Con altri rami Arriva arrivo Non so se hai capito Dall'alto Da casa mia Allora io ti giuro Che è già molto più bello Di come me lo immaginavo Nella mia testa È veramente bello Là dobbiamo mettere degli altri rami Perché è un po' spoglio Guarda Secondo me Allungando anche quell'altro Siamo pronti A mettere le foglie Sì sì Hai ragione Hai ragione Dai andiamo a dormire Uh porca miseria No Kendall non cadere Dove va? Eh stavo morendo Allora ragazzi Io non ve lo dico neanche Devo andare lontano Mark Devo farlo vedere Lo so Posso dire una cosa Kendall? Posso dire una cosa? Che cosa? Sarà più di un'ora Che mettiamo foglie e altro Lo so ma non importa Tra l'altro le stiamo finendo Ma ragazzi Cioè Volete mettere? Mamma mia Posso dire che è una delle cose Le belle della big per ora? Secondo me pure E io La mia idea era proprio quella Di creare qualcosa di Gigante Perché voleva che Volevo che fosse all'altezza Di tutte le altre costruzioni Della big Giusto giusto Molto bello Vedete che guarda anche da sotto Veramente bello Wow Da sotto Non l'avevi visto ancora? Da sotto così no Fuori di testa Bellissimo Allora C'è solo un problema Dobbiamo fare delle altre foglie Eh lo so Dobbiamo andare a fare delle foglie Allora andiamo a dormire E poi prendiamo delle altre foglie Quale foresta sradichiamo stavolta? Dovremmo andare un po' lontano Se no facciamo un disastro ecologico Qui in giro Poverino se no Buddy Non ha più niente Ci odia poi Ragazzi Siamo appena tornati Dal prendere tante altre nuove foglie Te ne servono ancora un po' Allora ne ho esattamente sette stack Sono un po' pochi sette stack Però per fortuna Stiamo quasi finendo ragazzi Eh devo allontanarmi un pochettino Per farlo vedere bene Perché è troppo gigante Ah ok Io vado sulla punta Guardate ragazzi Che mega albero bellissimo Ci sono un po' di tronchi Poi lagga 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 troppo È vero Con queste foglie Poi è un casino Mamma mia Sono curioso di vedere la reaction degli altri Sai? Sai che secondo me però Se ci pensi comunque era come ce l'aspettavamo Quindi secondo me Loro piacerebbe un sacco Sì 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 Beh sta venendo sicuramente molto bene Anzi Molto bene Sono curioso di sapere Se l'abbiamo fatto più grande Di quell'altro dell'isola delle tigri Non lo so Perché mi ero ripromesso di farlo più grande Sicuramente è più grande di quello vecchio di Bella Faccia Ti ricordi? Ah sì 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 Oh vogliamo Molto più grande Molto più grande Ma anche di tanto direi sì 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 Dopo più di tre ore Abbiamo finito il nostro progetto Io non ci voglio credere Voglio andarmi Non è che ci voglio credere Allora sono in cima Senti un attimo Tu sei ricco Mi puoi portare per favore un po' di oro? Voglio fare il puntale Voglio essere io Quello che fa il puntale Vada 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 Allora Sei pronto? Sono pronta Sì Sì È proprio così dritto? Così ci sta di lunghezza No 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 Adesso guarda Facciamo così Allora di altezza ci sta molto Ora facciamo tutti quanti i lati così In questo modo Non lo so Ti basta? Sto un po' improvvisando eh Sì 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 Dovrebbero bastare Lo facciamo giusto un altro po' così alto Così E magari ne togliamo giusto un po' così Guarda Esatto Molto molto sempliciotto Mi piace Che dici? Sì ci sta Mi piace così semplice Magari poi ci mettiamo su un blocco di diamante Pam 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 Mamma mia È belli Allora aspetta Spettacolare Sì C'è un problema Dimmi Quest'albero lo dobbiamo togliere Perché rovina la vista Un po' in mezzo le scatole Sì è vero Non ne posso più di legna Ma non importa Mamma mia Guardate quanto è bello ragazzi Ovviamente non abbiamo ancora messo le luci E i colori Esatto Perché quello là magari lo lascio fare a qualcun altro Cioè se qualcuno Aia Ok le bacche Sì Quello là lo lascerò fare a qualcun altro Quindi se qualcuno vuole decorare questo albero E mettere le palline Le luci I nastri E tutto quanto Lo potrà fare Noi abbiamo creato l'albero di Natale Ragazzi Lasciate un mi piace Mi raccomando perché è stato un'impresa Ma adesso nella Big Vanilla C'è un mega albero Allora voglio vederlo da lontano Aspetta aspetta Andiamo 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 sopra la torre tua Mamma mia È gigante Da qua sembra spoglio però Sì Ma perché Nel tanto nessuno la guarda da qua Esatto esatto Dall'alto non si vede Da sotto la cosa più bella e più importante Eh ragazzi È spettacolare Sì È una tra le creazioni Secondo me più belle Della Big Vanilla Dovete assolutamente Lasciare un mi piace E farci sapere cosa ne pensate Veramente Veramente bello E soprattutto maestoso Aia Che è successo? È arrivata una fulminata Ma come? Ma che dici? L'hai sentita? Sì l'ho sentita Ma ti è arrivata in testa? Sì adesso Ma che cavolo Vabbè ragazzi Prima che distruggiamo tutto Lasciate un mi piace Dal vostro candle e da Marche è tutto E noi ci vediamo domani Ciao In un prossimo video Ciao